Bisogna sempre dare una mano in cucina. Cin cin, procedi. Con la bandana del cuoco pirata. Un altro giorno a fare la spesa. Un altro giorno a comprare. Un'altra mattina. Vi mando i miei saluti. Qui il vostro San Ten Chan. Spero di uscire al più presto. Sono dovuto tornare. Ci sono stato ieri qua. Ma mi hanno fatto pagare di più un articolo. Adesso me la sconteranno dalla stessa. Arrivederci. Beh, questo pomeriggio forse faccio un video. A presto, ciao. Saluti a tutti. Grazie. 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 Grazie.